Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, rieccoci qui con Builder Simulator Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati, allora ragazzi abbiamo fatto le colline islandesi Mentre quest'oggi invece possiamo fare i soborghi americani Allora, la società dell'eroe doveva finalmente compiere il suo dovere civico e pagare le tasse arretrate E mi sembra ovvio, e mi sembra ovvio Ok, dai ragazzi, allora, vediamo un attimino di fare questo nuovo episodio E vediamo un attimino di andare avanti Ok ragazzi, allora dobbiamo accettare qualche lavoro facile E vediamo un attimino ragazzi di vedere un attimino quello che si deve fare Dipingi i muri e i soffitti Scusi buon uomo, com'è che te li vernicio io questi qui? Allora, innanzitutto, vediamo un attimino Rullo per pittura Ruota Ok, posiziona Vediamo un attimino Non so, materiali Vediamo un attimino Questo Colore 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 Vediamo un attimino Possiamo fare anche su un grigio Applica Vediamo un attimino Aspetta un attimo Prendi Seleziona colore Indietro Ma i muri interni o i muri esterni? Perché non è che si capisce poi così tanto bene Allora, vediamo un attimino Bianco Facciamo di un grigio Applica Guarda qua che... No, vabbè ragazzi Pensa un po' tu Che tipo di lavoro che stiamo a fa' Vediamo un attimino Forse magari con un bianco Sì, dai Si potrebbe fare Anche con un bianco Prendi i materiali No, vabbè ragazzi Dai Questo qui ha vinto tutto Ma ti devo fare anche il tetto Buon uomo? Ovvero Qui sopra? No Forse lì magari lo possiamo fare direttamente Con un bianco soltanto A prescindere che noi abbiamo il colore Ma mi scusi Questo che roba è? Non lo so, vabbè Comunque Allora Prendi i materiali Vediamo un attimino Finisci qui Forse... No, aspetta Che cancella? Cancella sta cippa Aspetta un attimo Vernici Applica Di colore bianco Si può fare questo? Scusi Buon uomo Ok Questo qui di colore bianco si può fare Vediamo un attimino questo qui Ok A posto Vediamo un attimino Vediamo un attimino di Andare avanti Forse magari bisogna Verniciare Ovvero pitturare anche qui Fatemi dare un'occhiata Sì Forse magari ragazzi La possiamo fare lo stesso Identico colore Allora Vediamo un attimino Mettimi questo qui Questo qui è sempre il bianco? Sì È sempre il bianco E ok Dopodiché Mi fai anche qui bianco Prendi materiale Dunque allora Vediamo un attimino materiali Questo qui Di un Colore Com'è che l'abbiamo fatto di là? Bianco? O grigetto? O grigiotopo? No Mi sa che doveva essere tutto quanto bianco Ok Quindi Lo facciamo di un colore solo Materiali Questo qui bianco Applica E damo Vediamo un attimino ragazzi Se devo fare anche il tetto Perché non lo so Ovvero il tetto Il Com'è che si chiama Il soffitto Quindi vediamo un attimino Se Bisogna fare anche quello Allora Vediamo un attimino Vediamo un attimino Ma È giusto così? Dipinci tutte le parete interne E i soffitti con il rullo per pittura Ok Quindi allora Vuol dire anche gli interni Va bene Va bene Allora Vediamo un attimino Gli interni Comunque sia Non ci dice un colore Già Prestabilito Allora Vediamo un attimino Io magari Il Tetto Te lo posso fare anche Non lo so Guarda qua che figata Quante vernici carine che abbiamo Questa qui Invece Sempre di color bianco Ovvero color bianco Scusate Non è un color bianco Ma No Non mi piace Comunque sia ragazzi Non spendiamo assolutamente niente Ora Sia ben chiaro Piastrello Guarda qua No vabbè Anche il piastrellato Questo qui ci stava bene con i muri Il piastrellato No vabbè Comunque sia ragazzi Ci dice di No Di pitturare Ma non Pittura Anzi no Aspettate materiali Vediamo un attimino Detto magari lo possiamo fare anche dello stesso colore Dai Tanto ormai ci siamo Ci perdo Chissà che cosa Anzi Non ci perdo proprio niente a farlo Allora Andiamo a prendere l'altro colore Lo so Devo fare un attimino un po' avanti e indietro Manca materiale Prendi il materiale Aspetta un attimo E Dipingi tutti i muri E i soffitti Ma c'è dell'altro ancora? Non lo so Ah si C'è ancora qui Qui Ammazze casone Ammazze che casone E che cos'è? Fatemi da un'occhiata anche Qui Magari esce qualche altra cosa No Soltanto qui Ok Allora Vediamo un attimino Vediamo un attimino No Vediamo un attimino Aspetta un attimo Selezioni il colore Sempre questo qui Va bene No Qui dopo lo facciamo di colore Bianco Magari Prendi qui E vai così Ora Aspetta un po' Signori La pittura è veramente Molto molto Figa E dai Riempi qua Maledetto Non lo so ragazzi Se lo faccio tutto quanto Per intero Posizionano a nulla Vai qui Vediamo un attimino Dai su qui ragazzi Lo faccio tutto quanto Per intero Dai Anche perché Se no puoi cambiare Ogni volta Il colore Mi sembra Una cosa Tanto angosciante Lo so Da lì abbiamo fatto un colore Quindi famo un altro Ma vabbè Tutto sommato Sti granciufoli Aspetti eh Vai 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 Fino indietro Fino indietro Ok L'edificio è stato Ridipinto Un piccolo bonus Signore Un piccolo bonus Ci sta Allora Vediamo un attimo Ah ok Perfetto Abbiamo finito Abbiamo finito Andiamo a casa A riposare Modalità Contratti Allora Isole tropicali Il cliente ha assunto Un'altra squadra Di costruttori Per costruire L'intera casa Tuttavia Una volta È entrato Nella casa Ha scoperto Che le finiture Erano di scarsa Qualità Che pensimi Buon uomo Che pensimi Mi lascia Lascia fare Sei in buone mani Certo Ti verrà a costare Una fortuna Però Allora Lui nel frattempo Che parla Realizza tutti i pavimenti Della casa Utilizzando il modello Di pavimenti Non dimenticare la terrazza Al primo piano Dell'edificio Si può anche Inserire il pavimento Attraverso la finestra Allora Vediamo un attimino Realizza tutti i pavimenti Della casa Utilizzando il modello Di pavimento Allora Modello di pavimento Modello di pavimento Che cosa significa Che io te lo lascio qui Dopodiché Possiamo fare O legno O biastrelle O mochetto Calcestruzzo Io direi quasi un legno Visto è considerato Che abbiamo Porta in legno E muratura Fatta in mattoni Vediamo un attimino Io direi quasi quasi Con questo qui Con questo legno Con un bianco Magari Aspetta un attimo Vediamo Questo Questo Oddio Sono abbastanza carini Tutti quanti Non dico Guarda questo qui Che figata Si Applica questo Com'è che lo piazzo Qui è andata Si A quanto pare si Oh no Apri qui Apri qua Quante stanze Dobbiamo fare Questa Questa Sicuramente Anche di sopra Ok dai Allora ragazzi Facciamo una sola Stanza per volta Se no qua Va a finire Non ci Raccapezziamo più Vediamo un attimino Questo Me lo piazzi qui Abbiamo detto Questo qui Applica Ok Vai così Vai così Come se non ci fosse Un domani Buon uomo Allora Secondo me Non è neanche Tanto giusto Togliere il Ovvero Sto cuso Di qua Perché Comunque sia Io me lo posso portare avanti Così per tutte Quante le stanze Oh signori È fatto veramente Benissimo Sto gioco Mi sta garbando Alla follia Cioè non alla Fallout Ma alla follia Per intenderci No Guarda qua Che figata Guarda qua Che figata No vabbè ragazzi Anche la lucentezza Del pavimento No vabbè Signori Guarda qua Vai 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 Piazza 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 Non te preoccupate Tanto pagano Loro Ok Vai così Vai così Forse magari Sarebbe stato L'ideale Aprire tutte Quante le porte E Ok Possiamo fare Direttamente Aspetta qua Mi sa che No Mi sa che Pensavo che avevo Saltato qualcosina Apri Tanto comunque sia L'ultimo oggetto Lo posso sempre Richiamare Ok Signori E che ve lo dico a fare Impresa edile Proprio A tutti gli effetti Impresa edile A tutti gli effetti Ok Manca qui Ehm Allora Vediamo un attimino Andiamo di sopra Perché Mi sa che è rimasto Qui Allora Ha detto anche sul balcone Ehm Dopo leggemo meglio Guarda qua Guarda qua Guarda qua S Che piastrellista Piastrellista Nato Guarda qua S Ok Allora Dopodiché Realizza tutti i pavimenti Della casa Utilizzando il modello Di pavimenti Non dimenticare La terrazza Al primo piano Dell'edificio Si può anche inserire Il pavimento Attraverso la finestra Quindi così Te va bene A quanto pare Si Ok Forse magari fuori Non sarebbe l'ideale Mettere il legno Ma fuori sarebbe l'ideale Credo Mettere un altro tipo Di materiale Allora Vediamo un attimino Rimettimi di nuovo questo Magari fuori Possiamo fare un piastrellato Ehm Fuori possiamo mettere Vediamo un attimino Rosso Campionario Di colore A trame Bianco Rosso Moquette Calcestruzzo Allora Io direi ragazzi Quasi quasi Di mettere Questo tipo di Piastrella Quindi applica Vediamo un attimino Si Fuori sarebbe l'ideale Mettere questo Si 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 Molto meglio Molto meglio E abbiamo finito Si buon uomo Va vabbè ragazzi Dai E' una figata E' una figata Guardate qua la luce Lucentezza Non so se si potrebbe notare In video ma Ok Signori Non lo so Se si vede in video Ma la lucentezza Proprio Veramente Una cosa Spettacolare E' questo che Secondo me E' la cosa Che risalta l'occhio Ed è Proprio questa La cosa che Diciamo Può Raffigurare Un gioco Modalità gioco Contratti Allora Quanti altri contratti Ne sono rimasti Fino a nove Noi siamo arrivati Al sesto Cittadina italiana Il cliente Non lo so Non lo so Comunque Signori E che ve lo dico a fare La mitica 126 Dovrebbe essere La mitica 126 Ok Ok Signori Cittadina italiana Nulla da aggiungere Nulla da dire Guarda qua Ci sta anche il Tuk Tuk Con No vabbè Ragazzi Vabbè Dai E che ve lo dico a fare Guardate qua Che spettacolo La nostra Cittadina italiana La nostra Cittadina italiana Guarda qua Autovere Un Audi Sì A quanto pare Sì Un'altra 120 Dovrebbe essere Una 120 Sì Infatti questa qui È un Audi Una Vespa Cioè No vabbè Ragazzi Siamo veramente Al di fuori Di ogni cosa È Veramente Un titolo Fenomenale Veramente Un'atmo Guarda qua Una bici Un'atmosfera Veramente Così tanto Brillante Che Non so nemmeno Io ragazzi Come descriverlo Un'altra Vespetta Qui Cassonetti Vecchi Cassonetti Dell'immondizia Come si usavano Una volta Guarda qua No vabbè Ragazzi È Figo Molto Molto Figo Guarda qua Le statuine La fontanella Le altre case E che E che Ve lo Dico a fare Comunque Allora Guarda qua Anche le Com'è che si chiamano Le bancarelle Basta Guarda qua Anche il fontanino Il mitico fontanino Madonna Quanti ricordi Sti fontanini Comunque Comunque Altri case Qui Da qua Non ci sta Più niente Possiamo Risalire Allora Vediamo un attimino I compiti I compiti Sono Produci Malta E mettila Sulla Cazzuola Allora Da dove Era Mi sa Di qua Di qua Ci siamo Passati Sì Dopodiché Spalma La malta Per inserire I mattoni Forati Compra Mattoni Forati Nel negozio Costruisci Un muro Portante Inserisci Architravi Compra Inserisci Solaio Allora Questo qui Secondo me Dovrebbe essere Molto Molto Lunga La cosa Però 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 Vediamo un attimino Facciamoci Un altro Mezzo Giro Qui Nella nostra Bellissima Cittadina Italiana Vabbè Comunque Signori Andiamoci a lavorare Andiamoci a lavorare Dunque Primo compito È quello di Produrre Malta Giusto Sì Primo Malta Valle Spostami La carriola Qui Dopodiché Spalmala Inserisci I mattoni Forati Allora Aspetta un attimo Mattoni Forati Ok Cazzuola Questa No Splaffede E Spl No Ho sbagliato Tasto Splaffede Ma ok Splaffede E Ancora altro Splaffede Ok Dopodiché Mattoni Forati Eccoli qua Allora Allora Ne ho preso Un 200 Vediamo Un attimino Se Eh ma Non basteranno Mai Però eh Non basteranno Mai Vai 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 così Dai Detacco È già finita La roba Eh sì Allora Aspetta un po' Ok Eh ragazzi Qua la roba Adesso Finirà Molto in fretta Veramente Molto molto in fretta Eh Perché Non solo Abbiamo Tanti di quei mattoni Da mettere Ma Di soldi Se ne andranno In quantità Industriale Non so Quanto tempo Durerà Questo video Ragazzi Se durerà Un'eternità O durerà Poco Non vi so dire A posto Dai Ed è altra Malta Lo so Potrei utilizzare Il Mini Gioco Però Mi vorrei anche Arrangiare così Cioè Arrangiare Scusate Mi potrei anche Divertire così Vai così Qua Quanto è che ne è rimasta È quasi finita A posto Così Dunque Vai di Mini Gioco Qua Splaffete Anzi no Forse magari Qui no Qui no E si Dov'è che Magari Se ne dovrà Mettere un pochettino Di più Magari Vado direttamente Con lo Splaffete A posto Così Ehm Si ragazzi Qua adesso Bisogna Lavorare Veramente Così tanto Che Bisogna portare a termine Quest'altra missione Come detto ragazzi Non so quando durerà Questa nuova parte Però Vediamo un attimino ragazzi Se la riesco a fare Tutta quanto in questo video Sennò altrimenti Pazienza Non fa niente Magari la riprenderemo Perché comunque sia Già è una cosa che Il titolo Il titolo Ti fa salvare Ok Questo qui Credo che dovrebbe essere L'entrata Ebbè naturalmente Si Vediamo un attimino Qui quanta roba è rimasta 1% No Ok Nel frattempo Magari Me ne fai Dell'altra Vediamo se Con questa qui Riesco a fare Tutto Ma non Penso Si dai Più o meno Più o meno Riesco a fare Tutto Dai Allora finito Si Finito Dai così Dai eccola Ok Allora Dai dei mattoni Allora Già che hai la possibilità Di poterli mettere Tutti quanti insieme È già una cosa Poi Ragazzi Ripetisco Il fatto del pavimento È veramente Una cosa Fighissima Veramente Una cosa Mai vista prima Se sapete Che tipo di gioco Magari sto cercando io Non so se magari Le conoscete Giochi di Magari Meccanica Ma Meccanica Di quelli Veramente Molto pesanti Tipo Saldatura Ste cose qua Insomma Ecco Allora Vediamo un attimino Quanta roba è rimasta qui Vai vai Cala 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 così Allora Vediamo un attimino Iniziamo a mettere Un po' di Ok In modo che Comunque sia Mi riesco a Posizionare Un pochettino Meglio A posto Dai Ho sbagliato Cavolo ho fatto L'ho venduto Aspetta Ok A posto Allora Allora Sì che tanto Comunque sia Come detto Posso anche salire Direttamente sopra E far così Senza che Magari Esco pazzo Eccetera Uppela Dai Tagliere De matton Solo Vediamo un attimino Ragazzi Siamo arrivate Più o meno Ad una trentina Di minuti Di video Magari anche Con determinati Tagli Eccetera Sicuramente Arriviamo Ad una ventina Di minuti Allora Qui è già finito Tutto Tagli un'altra volta De malta Tagli così Allora Vai qui La sicurezza Prima di tutto Sui cantieri Ma tanto noi Della sicurezza Ce ne freghiamo Altamente Perché noi Possiamo farlo Signori Noi possiamo farlo Aspetta un po' Perché sennò Questa qua Mi consuma Più Corrente Che altro Tagli dei mattoni Alta Aspetta Che sono scivolato De sotto Aspetta un attimo Ok Bene così Allora Vediamo un attimino Mini gioco Splaffede Vamo prima Così Splaffede Dagli Qua no Qua no Qua no Qua no Ok Allora Vediamo un attimino Ragazzi Io acquisto Altri 200 Mattoni Allora Qui ci vuole Un travetto Lì anche Però Aspetta un attimo Quanto 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 è che ne abbiamo Qui Quasi niente Allora Fiamo così Dai E che cos'è Mi sbaglio sempre Tasto Dai Demalt Sali Sali qui Buon uomo Allora Qui Splaffede Stiamo a posto Ok Allora Qui Abbiamo detto Che serve Uno Due Due Travetti Ok E uno Dello piazzo Qua E un altro Dello piazzo Qui Dopodiché Mattoni A posto Così Dai E di altra Calce Stiamo a spendere Più di Mattoni Calce E chi più ne ha Più ne metta Zacchete Ok A posto Però Che dobbiamo fa' Questo è il lavoro Da muratore Barra Carpentiere Ah Finalmente Dio ti ringrazio Siamo arrivati quasi Al Mancano soltanto Degli altri mattoni Aspetta un attimo Lascia questa Metti qui E dai Mannaggia Aspetta Lino Lino E ok A posto Sì che poi Non ho capito Perché te lo fa fare Diciamo Tra virgolette Al rovescio Cioè Se Mi devi alzare Il muro Almeno Alzamelo dritto Senza che Me lo vai ad Alzare Storto Vabbè Comunque Allora Blocco di solaio Vediamo un attimino Facciamo una decina Per il momento Anzi Dieci erano pure Troppi Posiziona le viti Aspetta A questa Ah Questa finestra Inserì Ah ok Quindi dobbiamo mettere Anche finestre E porte Ok Allora Vediamo un attimino Una porta E una finestra Dunque Tetto Scala Porta E finestra Allora Allora Una porta Questa E a questa E ok Dopodiché Aspetta un attimo Vendi Questo Questo Almeno così Ci vado a ricavare Un attimino Un po' di soldi Tutto Bene Allora Vediamo un attimino La porta Dunque Mettiamo Questa qui Bianca Applica Mentre qui Invece Dammi Il trapanino Qui Aspetta Qua che soste Splashade Bianche Uh Armuratore Tutto fare Qui Lascia Fare Che Siede In ottime Mani Ok E aspetta Metti qui A posto E mettiamo Anche qui Allora Dopodiché Acquista Porta Posizione Vide Posizione Gunei Acquista Progetto Del tetto Seleziona L'inventario Imposta L'angolo Di inclinazione Acquista Le travi Acquista Le tegole Ok Quindi bisogna Prendere anche Un tetto Allora Vediamo un attimino Qui Tetto Acquista E ok Dopodiché Posizione Ad Ah E non l'avevo mica Capito io Sta cosa qui No vabbè Così no Conferma E Comunque ragazzi Comunque Allora Aspettate un po' Una roba Facciamo così Facciamo una salvata Alla partita Allora Questo qui Se non vado errato Mi sa che dovrebbe essere Quello lì Del Settimana scorsa Sopra scrivi E ok Dopodiché ragazzi Arrivato a questo punto Io direi di concludere qui Questo nuovo episodio Della serie di Builder Simulator Mi raccomando Fatemi sapere anche La vostra qui sotto qui Nei commenti Di cosa ne pensate E mi raccomando Vi invito a lasciare un like Commentare ed iscrivervi Attivare la campanellina Condividere il video E noi ci becchiamo In un prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti